E' stato pubblicato di recente un nuovo studio realizzato dall'Università di Helsinki che mostra che le diete vegane nei bambini influiscono negativamente sul loro metabolismo. Sono stati messi a confronto infatti bambini vegetariani, vegani onnivori e bambini vegani fin dalla nascita hanno mostrato uno status vitaminico marcatamente più basso, in particolare di vitamina D nonostante l'esposizione alla luce solare e di vitamina A nonostante la pianificazione della dieta da parte di un nutrizionista e nonostante l'utilizzo regolare di integratori, quindi questo è molto preoccupante. La carenza di vitamina A poi si è realizzata in concomitanza con la carenza di DHA, un acido grasso essenziale omega 3 a catena lunga fondamentale per lo sviluppo cognitivo del bambino e questa carenza in concomitanza influisce negativamente sulla funzionalità visiva del bambino. Un'altra carenza preoccupante è quella di colesterolo. Il colesterolo è fondamentale, pensate che il 60% del cervello è costituito proprio da colesterolo, va a formare la mielina, va a rivestire i neuroni, le cellule cerebrali, quindi una sua carenza nel bambino è devastante. Questo studio va a sommarsi ad altri studi che mostrano carenze preoccupanti per lo sviluppo e la crescita del bambino. Gli autori dunque sono concordi nel sostenere che serve cautela e attenzione prima di raccomandare le diete vegane come salutari e nutrienti nei bambini perché i danni possono essere permanenti, irreversibili e potenzialmente letali. Quello che è certo è che una dieta completa di tutti gli alimenti, anche di carne e prodotti animali, garantisce un apporto di nutrienti completo e soddisfacente per la crescita somatica e cognitiva del bambino.